buongiorno cari cittadini anche oggi come ieri darò ogni giorno come dicevo una impressione il più capillare possibile per far capire effettivamente bene come funziona la auto certificazione e oggi mi rivolgerò agli amici dell'abruzzo qui che ho con me come dicevo il certificato l'autocertificazione e ve le do lettura cominciando proprio da sopra autocertificazione per uscire dalla casa sta scritto all'essenza dell'articolo 46 e 47 del dpr numero 445 barra 2000 i nato e pasciuto i a abito a via ma tengo pure nata casa in campagna a c'è la vita scrive e la socia che abita a via telefono telefonino e pure lo fax la mail al paese ce lo sanno chi si so sentito che si scrive lo fax la managgia io alla carriera e vanno pure la pecunia ma vi dico e mi piace pure la responsabilità è quello che scrive che non non tengo nessuna malattia che possa via l'altra che non sto in quarantena per essere positivo lo coronavirus che sono uscita dalla casa per uno di questi motivi prima portare a pesciare il cane più la coppia a piazza a piazza a piazza alla campagna più attuale la socia che gli attuare la vallola l'uppardascia più al dottore per vedere se tengo immorroidi vado anche giuro giuro che faccio veloce come uno formano giuro che conosce le misure per non via lo contagio di questo coronavirus lo posso nascita e che mi lavo le mani pure quello vimmo quando è e a dove mi hanno fermato io e la guardia va bene mi raccomando state attenti, state accorti